Buonasera, benvenuto Roberto Speranza, ministro della salute di articolo 1, che sarebbe insomma il partito di Bersani, ma lei è anche segretario di articolo 1, è la sua prima intervista televisiva da quando è diventato ministro, ma se non sarebbe mai aspettato di diventare ministro così improvvisamente, sembrava che dovesse stare all'opposizione per almeno altri tre anni e mezzo, invece? Noi abbiamo creduto prima degli altri su questa ipotesi di accordo politico tra i 5 stelle e il centro-sinistra, fu proprio Bersani nell'allora 2013 quando era segretario nel PD a credere che si potesse investire su questa prospettiva, noi ci abbiamo creduto dall'inizio, non abbiamo cambiato idea all'ultimo momento e oggi la storia ci ha dato ragione, sono passati sei anni ma finalmente ci siamo arrivati. Però insomma la manovra economica dalla quale parliamo adesso è tutto un po' più...